Buonasera a tutti carissimi tifosi e carissimi tifosi interisti, ben ritrovati in questo nuovo video me la sono persa purtroppo questa partita, peccato peccato, Lazio Inter 0-3 gara che è stata vinta da Nerazzurri a Roma contro un avversario ostico tutt'altro che scontato vincere su questo campo, anzi avevo qualche timore purtroppo come avevo detto precedentemente non ho potuto vedere la partita perché oggi ho festeggiato l'anniversario di fidanzamento con la mia ragazza quindi per ovvi motivi non ho potuto guardare il match meno male che comunque l'Inter mi ha fatto questo graditissimo regalo 3 punti, 3-0 contro la Lazio ma soprattutto secondo posto perché questa vittoria significa che l'Inter ha agganciato il Napoli che ha pareggiato con la Roma, agganciamo il Napoli a 22 punti e quindi insomma l'Inter dopo un avvio di campionato piuttosto zuppicante dimostra che la condizione atletica è ottimale, che la squadra sta girando bene tra l'altro oggi si è proposta da quello che ho capito con un modulo diverso Spalletti non con il solito 4-2-3-1 ma con un 4-3-3 con Brozovic interno, Vesino e João Mario a fare le mezzali e ovviamente Perisic e Policano agli esterni e Icardi come punta, come punto di riferimento offensivo e io quando avevo visto João Mario titolare ho pensato ma che cavolo sta succedendo e invece no, in uno schema come questo João Mario ha il suo perché dato che lui è come ruolo naturale è una mezzala e sembra proprio da quello che ho potuto capire che João Mario ha disputato una partita assolutamente positiva quindi contento, contento che il giocatore che a me francamente non piace però se si rende utile se con questo modulo si trova bene e può servire alla causa della squadra ragazzi, meglio avere un giocatore in più che un giocatore in meno poi lui magari a gennaio potrà essere anche ceduto non mi interessa però intanto lui fa parte dell'Inter e deve essere valorizzato il più possibile chi se ne frega delle dichiarazioni quello poi ci si penserà quando se ne andrà via intanto adesso se lui è utile è bene farlo giocare è bene sfruttarlo poi per quanto riguarda i gol noi non abbiamo subito nulla quindi la difesa ritrova solidità dagli highlights ho visto qualche bella chiusura da parte di Miranda, di Asamoah Andanovic di parate ce n'è stata una di parata impegnativa che è stata in occasione del calcio di punizione ma poi per il resto insomma Samira è stato abbastanza tranquillo dopo una prima parte nel primo tempo dove la Lazio si è vista un po' di più poi l'Inter ha fatto insomma il bello e il cattivo tempo Icardi che riceve un passaggio splendido di tacco da parte di Vecino e fa gol poi un bel tiro da fuori area di Brozovic che già consente all'Inter di raddoppiare prima della fine del primo tempo e poi quando c'è stato l'entrata l'ingresso in campo di Borca Valera al posto di João Mario ho visto che Borca ha servito un assist al basso a Icardi il quale ha fatto un controllo bellissimo che ha proprio buttato fuori dal campo il suo avversario il difensore che lo stava contrastando e poi insomma con la porta spalancata non ha dovuto fare altro che metterla dentro insomma un Inter che ha funzionato perfettamente un Inter che ha avuto varie altre occasioni e che ha strameritato di vincere questa partita quindi insomma non c'è molto altro da dire per me solo grande soddisfazione per questo risultato per questo secondo posto e per il fatto che abbiamo smaltito ottimamente la sconfitta in Champions League contro il Barcellona io più che altro ero preoccupato per questa partita contro Lazio perché contro il Barca non avevo visto l'Inter combattiva che mi sarei aspettato e che ho visto in altre occasioni spesso quando avevamo la palla i giocatori non si smarcavano rimanevano coperti c'era poco movimento non lo so insomma mi aveva dato una cattiva impressione la nostra prestazione e quindi temevo che questo avrebbe avuto un come dire una ripercussione ci sarebbe stata una ricaduta anche in campionato e invece assolutamente no l'Inter è andata ad affrontare la Lazio e ha vinto con merito e chiaramente comunque contro il Barcellona c'è anche da dire che si puoi praticamente non aver giocato però insomma di fronte hai il Barcellona non è un caso che poi il Barca sia andato a vincere 5 a 1 contro il Real nel classico che si è disputato recentemente quindi bene insomma significa che l'Inter ha il fisico ha la condizione atletica i giocatori si trovano bene in campo questo 4-3-3 chissà magari potrebbe diventare proprio una valida alternativa nei confronti del modulo standard nostro che è il 4-2-3-1 chissà Spalletti insomma farà le sue valutazioni però mi sembra che questo modulo abbia dato una risposta ampiamente positiva quindi una vittoria che dà morale una vittoria che dà punti e che ci consente di prepararci al meglio per la partita che ci sarà al Meazza contro il Genoa sabato tra l'altro anche quella è una partita che si disputerà alle 3 che non potrò vedere perché sarò a Luca Comics quindi magari la seguirò un po' alla radio sperando di capirci qualche cosa comunque diciamo che questa settimana molto impegnativa tra derby Champions contro il Barcellona e Lazio in trasferta l'Inter ha fatto veramente un percorso estremamente positivo perché comunque perdere con il Barcellona ci sta qualsiasi squadra al mondo potrebbe perdere al Camp Nou contro il Barcellona quindi tutto sommato quella è anche una sconfitta in dolore e comunque ricordiamo che dopo la partita con il Genoa martedì ci sarà lo scontro di nuovo con il Barça però questa volta a Milano speriamo di fare meglio però intanto noi diciamo che in campionato stiamo andando bene vediamo di fare bene anche contro il Genoa l'Inter mi sta mi sta piacendo e niente questo è quello che ho che ho da dire sulla partita che purtroppo ripeto non ho potuto vedere e ho rivisto soltanto le azioni più importanti e niente io vi saluto auguro a tutti quanti voi una buonanotte e sempre Forza Inter ragazzi ciao